ciao a tutti dal vostro ice e bentornati o benvenuti sul mio canale allora ragazzi altra video guida trofeo in questione cacciatore di teste dettagli dicono anche la zona non dimentica i disertori allora questo trofeo lo potete fare in libera esplorazione venendo qua dal tipo che c'è qua vediamo adesso oppure c'è anche la missione secondaria che ci viene data dal barista mi sembra al bar cento rad se non mi sbaglio o da da sidorovic uno dei due missione o non missione venite qua all'istituto aeroprom qui c'è l'istituto andate lì a sinistra c'è questa zona paludosa e lo trovate lì zona paludosa venite qua dove c'è questo specie di carrozzone qua e mezzo ai tubi e quant'altro entrate dentro e trovate il disertore eccolo qua proprio lui è abbastanza che vi avvicinate a lui prendete il trofeo è tutto ragazzi ci sentiamo nel prossimo video statemi bene ciao ragazzi